Ciao ragazzi, video velocissimo per andarvi a informare sullo Zenetto FNCS che finalmente sarà disponibile gratuitamente, non è quello del bundle, insomma, questo qui per intenderci, ma è un altro, questo qua che si vede qua sopra, sopra il dmplay, è sempre carino, basta come al solito partecipare a 30 minuti di live della Measure 2, quindi con i drop attivi questo weekend, quindi sabato e domenica, 30 minuti dalle 18.40 in poi. Vi metto in descrizione il sito, se non avete Twitch o YouTube, collegate il vostro account Epic a questo sito qua di streaming, che è l'ufficiale di Fortnite, tra gli alcuni tranquilli, se no collegate il vostro account a Twitch nelle live che hanno i drop attivi, c'è scritto drop attivi, quando entrate comunque nella chat, sopra la chat esce, diciamo, la barra di caricamento che carica e vi dice quando poi il drop sarà completato entrando poi in game, ve lo ritrovate. Ci fermiamo qui, raga, like ozzo, mi raccomando, per supportare il canale, il codice datore, questo in basso a sinistra, sempre attivo, se lo usate, taggatemi sui social per partecipare alle lotterie, per vincere premi durante i contest e le gift card e le lotterie c'è out.